Nell'area PIP di Tazzano è stato installato il pannello numero uno del parco fotovoltaico Zamboni, capacità di circa 20 megawatt a partire dal 2024, una produzione annua di oltre 30 gigawatt ora, equivalente si dice al consumo annuo medio di circa 14.000 famiglie, Marco Marsili di Scelli Italia. È il primo di quella che ci auguriamo essere una lunga serie di impianti che costruiremo in Italia, abbiamo più o meno 48, vicino ai 50 progetti diciamo, per un totale di 2 gigawatt di capacità rinnovabile che vorremmo installare in Italia nei prossimi anni. Nel parco Zamboni saranno installati oltre 34.000 pannelli fotovoltaici bifaciali ad alta efficienza su un'area di 17,6 ettari di cui 14,6 dove saranno collocati i pannelli. La restante area di circa 3 ettari verrà piantumata. Il sindaco Rinaldo Melucci. Con Shell, come sapete, all'interno della Joint Venture di Tempa Rossa abbiamo già in piedi un protocollo d'intesa, un percorso con altre collaborazioni molto significative, specie per i più giovani di questo territorio o per il porto in relazione all'infrastruttura di Tempa Rossa. Voglio anche ricordare che oltre a questo parco importante che è il primo che Shell realizza sul territorio nazionale, e noi stiamo studiando, stiamo realizzando altre collaborazioni con Shell per lastricare e assolare anche alcuni immobili di proprietà comunali. E noi che siamo inguaribili romantici, il parco fotovoltaico lo avremmo preferito sui tetti dei capannoni industriali o magari nei vicini terreni improduttivi della Salina Grande. La transizione energetica, l'eolico e il fotovoltaico, che sono determinanti per sottrarci dal fossile, vanno allocati dove non danneggino identità e tradizioni produttive, ma anche paesaggi e vocazioni turistiche. Per questo la gestione dei territori passa da amministrazioni attente anche a questi aspetti.